Pensiamo che c'è un provvedimento sul tavolo e che dovrebbe essere dotato con i primi 6 milioni e mezzo di, lo sappiamo da tempo, abbiamo chiesto prima di tutto che venga fatto immediatamente, che mi conto che ovviamente tu sai bene. Ovviamente i 6 milioni e mezzo sono per le prime necessità.